Adesso torniamo in Italia, parliamo delle nuove tensioni nella maggioranza dopo le unioni civili, stavolta il braccio di ferro tra MCD e PD continua sul reato di clandestinità. Il governo vuole cancellarlo, ma il partito di Alfano frena all'attacco Lega Nord e Fratelli d'Italia. Per i dettagli abbiamo da Montecitorio a Giorgia Rombolà in compagna di un ospite. Sì, buongiorno. Parliamo proprio di questi temi. In nostra compagnia c'è Maurizio Lupi, presidente dei deputati di area popolare del nuovo centrodestra. A Lupi chiedo subito. Dunque, l'ipotesi, l'intenzione del governo è quella di cancellare, di abrogare il reato di clandestinità. Si parla di una contrarietà del suo partito. C'è qualcosa di vero? Siamo a fronte dell'attuazione di una delega. Ovviamente il Consiglio dei Ministri discuterà perché la delega sta per scadere. E' una delle deleghe, quella della depenalizzazione delle deleghe, che può essere prevista nella depenalizzazione dei reati. C'è anche una proposta di depenalizzare il reato di immigrazione clandestina. Se ne discuterà, ma la nostra posizione è molto chiara. Tanto più in un momento come questo, anche dopo quello che è successo in Germania, dopo le polemiche che stanno succedendo riguardo all'immigrazione, credo che sia un segnale sbagliato quello di depenalizzare e di togliere il reato di immigrazione clandestina. Proprio perché stiamo facendo una battaglia che è quella di accogliere insieme con l'Europa i profughi che scappano dalle guerre nel Nord Africa. Dobbiamo dall'altra parte dare un segnale chiaro che chi invece non appartiene a questa categoria, se entra clandestinamente nel nostro paese, commette un reato. Io credo che questo segnale lo dobbiamo dare, altrimenti rischiamo di dare fiato e dare ulteriore acqua a tutti coloro che invece su questi temi vogliono strumentalizzare con argomenti populisti. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Roberti, però dice che questo reato non ha svolto funzione deterrente, anzi ha rallentato le indagini. Io credo che poi ognuno si debba giustamente assumere la propria responsabilità, la politica di fare la politica e poi i tecnici di dare legittimamente il loro parere. Io credo che la funzione più importante di una legge è quella di indicare quali sono le regole principali per un paese e queste regole vanno rispettate. Poi la si possono attuare nel miglior modo. Il reato di immigrazione clandestina è un segnale forte che noi diamo al nostro paese, ma non solo al nostro paese, a tutta l'Europa e anche agli altri paesi, che esiste se entri illegalmente nel nostro paese e commetti un reato. Credo che non sia questa legge sia la ragione per cui entrano di più o entrano di meno o non si riesce ad applicare la legge. Non ci credo neanche se lo vedo. Dunque, posizioni diverse dal vostro alleato di governo, dalla PD, come anche sulle unioni civili, non avete mai nascosto la vostra contrarietà, soprattutto sulla norma della stepchild adoption, dell'adozione. Potrebbe essere l'affido rafforzato, un punto di caduta, un compromesso possibile che vi porta a votare la legge Cirinna? Innanzitutto chiariamo e ricordiamo una cosa che credo troppo spesso ci si dimentica, lo dico anche agli amici del Partito Democratico. Questo è un governo che non è un monocolore del Partito Democratico e non è una maggioranza che è uscita dalle elezioni. Con responsabilità la sinistra, il Partito Democratico e noi del nuovo centrodestra ci siamo assunti la responsabilità di fare una legislatura che sia costituente, che cambi radicalmente il Paese, sia da un punto di vista delle riforme economiche che di quelle istituzionali. Proprio per questo ognuno è legittimato certamente ad affermare i propri programmi. La sinistra aveva nel proprio programma quello delle unioni civili, del riconoscimento dei diritti, eccetera, ma è obbligatorio non cercare maggioranze variabili, ma cercare di fare delle buone leggi. Noi sulle unioni civili siamo per fare una buona legge, quindi siamo anche noi per fare rapidamente una legge sulle unioni civili, ma non vogliamo che queste unioni siano come è purtroppo nel disegno di legge Cirinà, che ha un senso se è proposto dal Partito Democratico, non ha nessun senso se deve essere approvato da una legislatura costituente, che sia limitazione anche venuta male del matrimonio e addirittura noi siamo assolutamente contrari al fatto che non si riconosca, deve essere riconosciuto il diritto di un bambino ad avere un genitore, un papà ed una mamma. L'affido condiviso ci sembra una soluzione anacquata. Noi dobbiamo dire con chiarezza che non può esserci l'utero in affitto o la pratica dell'utero in affitto che è un reato nel nostro Paese, che è un reato innanzitutto contro la dignità delle donne e la dignità umana e che l'adozione è un diritto dei bambini e non un diritto dei genitori. Credo che su questo dovremo lavorare seriamente in questi giorni per trovare una soluzione. Ultima cosa, brevissima, sarete in piazza per un eventuale Family Day, si parla di un Family Day a fine gennaio, organizzato dalle associazioni cattoliche. Credo che adesso il nostro compito sia essere nel Parlamento e dialogare seriamente, in particolare con la maggioranza, ma anche con tutte le forze politiche, e fare una buona legge. La piazza è sempre un segnale importante, la società civile si mobilita e se si mobiliterà noi l'ascolteremo e saremo ovviamente anche noi, come abbiamo fatto in altre occasioni, in piazza. Però il compito principale di una forza parlamentare oggi è lavorare in Parlamento perché si faccia una buona legge. E noi vogliamo fare una buona legge sulle unioni civili. Grazie, grazie a Maurizio Lupi. Se non avete domande vi restituiamo la linea. Grazie, Giorgia. A più tardi.